Buonasera a tutti e benvenuti, serata di pioggia e serata di passione. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Jordan Zemmura contro Yunus, palla messa in mezzo, no Florenzi. Florenzi ha dato quasi l'assist agli avversari per fare gol. Avanza Tici nello spazio, bella per Cala Calabria, Cala Calabria. Il tiro, la deviazione in corner di Silvestri, la grande occasione di Cala Calabria, bravo. Tiene palla il Milan, Fick dentro per Jovic, Jovic si gira, allarga Jovic, allarga Jovic per Musa. Musa si ferma, gli va incontro Davide, Musa, Musa, il tiro di Musa, la parata, la parata di Silvestri. Bravo Yunus, dalle flore, cerca l'area Giroud, servito Krunic, Krunic allarga per Rafa, c'è un po' di campo per lui. Rafa va al cross, basso, Florenzi no. Florenzi era completamente solo davanti a Silvestri, riuscito a girarsi bene, sul limite dell'area piccola. Calabria. Calabria lancia Giroud, Giroud contro Bicciol, ecco Caffor dentro, Tigi, 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 la palla finisce fuori. Avanza Wallace, Wallace allarga di là, dove c'è Bosele, Bosele contro Florenzi. E Bosele allontana rigore, rigore per l'Udinese. Rigore per l'Udinese. Parte Pereira, gol. Gol dell'Udinese. Palla messa in mezzo, colpo di testa, grande, parata di Mignan. Miracolo di Mignan sul colpo di testa di Success. Ci avviciniamo ormai al novantesimo. Sotto in casa con l'Udinese. Romero, Giroud. Il miracolo di Silvestri. Giroud di testa, una deviazione sotto misura. Leao contro Camarà. Leao prova a mettere in mezzo. Palla, deviata in area dall'Udinese. Tiro fuori. Angolo, angolo. C'è una protesta nostra, ma Leflore va diritto sull'angolo. Calabria mette in mezzo, salta. Poi il tiro di Florenzi, la parata ancora di Silvestri. Finisce la partita. Il Milan perde a San Siro contro l'Udinese. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. тур喔 a tutti. Grazie a tutti.